E' ufficiale, Sam Austin è innamorato. Ah, no comment. Io volevo vederti. Jack! E sapevo che se fossi riuscita a prendere Jack... Dove sei, piccolo? Tu mi avresti dato una chance. Non so come ringraziarlo. Hollywood è una piccola città. Ma io non c'entro con Hollywood. Beh, adesso sì. Non dovresti essere qui. Fascino e morte a Hollywood. In prima visione assoluta, questa sera, 21.05, Rai 2.